Innanzitutto il TV Spontale al Vivo è il nostro evento di punta, quindi l'associazione in realtà nasce durante tutto l'anno e ha un'attività che va dall'inverno fino all'estate. La preparazione del festival è molto intensa, oggi già siamo reduci da montaggi e smontaggi in tutto il parco. È una situazione molto bella perché siamo tutti volontari, siamo tutti amici, ci vogliamo bene e anche se è stressante e molto complicato, comunque siamo riusciti nel corso degli anni, e questo è l'undicesimo anno, a portare un evento nella provincia che ha il suo richiamo, di cui andiamo molto fieri. Tutto qua. A chi si rivolge questo tipo di evento? Allora, diciamo che il target degli eventi che facciamo durante il TV Spontale al Vivo è un target abbastanza giovane, soprattutto dovuto ai gruppi che richiamiamo. Anche se da un po' di anni a questa parte abbiamo provato a scansionare, diciamo, da generi musicali, per cui oltre a vari gruppi indie, di Municipal o I Hate My Village, che sono un gruppo nato quest'anno, il giovedì per esempio abbiamo sia Marina Ray che Benvenu, che portano, diciamo, ad aprire un po' il pubblico a qualsiasi età. Poi abbiamo sia durante il pomeriggio del sabato e della domenica dei tavoli di discussione, attività, letture. Ci sono, il parco è adibito, diciamo, sia la domenica che durante gli altri giorni alcuni giochi gonfiabili per i bambini. E la domenica, invece, appunto, come diceva il mio collega Federico, il parco si trasformerà in una spiaggia, quindi aperto a chiunque, aperitivi, pistola d'acqua, materassi, lettini, tutto ciò che volete. I nomi presenti nel nostro cartello sono molti. Si parte da giovedì 18 con Marina Ray e Paolo Benvenu, con il loro progetto, canzoni contro la disattenzione che stanno portando in giro per l'Italia già da ormai più o meno un anno. In apertura ci sarà un gruppo di Roma che ha vinto il nostro DJ, il nostro Rock Contest, perché con l'associazione organizziamo anche DJ e Rock Contest. Venerdì ci sarà Riccardo Sinigallia, cantautore, produttore, scrive canzoni da quando ha l'età, quando è piccolo così, scrive canzoni per Max Gazze, per Niccolò Fabi, per tantissimi artisti e anche per se stesso, ovviamente. Sarà l'headliner della serata di venerdì e in apertura avremo due gruppi, ben due gruppi, la Municipal, un giovane gruppo il cui nucleo è composto da due fratelli, un fratello e una sorella, che hanno vinto il Rock Contest del concertone del primo maggio di Roma, che sono al secondo disco, in ascesa, in completa ascesa, di critica e di pubblico. Ancora prima, in apertura di serata, avremo i Costiera, un gruppo che ha appena pubblicato il primo disco, un gruppo partenopeo, dalle grandi aspettative. A fine serata, un nuovo progetto sul jazz sperimentale, gli M2 Electric Unit, che sono dei ragazzi di Rapolano Terme e che collaborano insieme a un jazzista, a Lipio, Carvaio, Nieto, brasiliano, e che ci porteranno, diciamo, fino a notte fonda. Il sabato, il sabato, invece, vedrà come headliner gli I Hate My Village, che sono un supergruppo formato da Adriano Viterbini, The Bud Spencer Blues Explosion, Alberto Ferrari, cantante dei Verdena, Rondanini, batterista degli After Hours e Calibro 35, bassista dei Jennifer Gentle, che hanno formato questo supergruppo, hanno fatto questo nuovo disco, rivelazione, sold out, dall'inverno, praticamente. In apertura, agli I Hate My Village, avremo la batteria, un gruppo di Roma che fa una musica tendente al cinematografico, diciamo, anni 70, ispirati da Piccioni, Morricone, e questa musica qua. Alla fine, anche qui, avremo un DJ set che ci accompagnerà fino a tardanotte, dei Leopardi. La domenica, la domenica ci sarà, diciamo che ci sarà più un clima di festa, perché vogliamo adibire il parco a spiaggia. porteremo ombrelloni, sdraio, lettini, ci saranno DJ, il DJ Contest, ci sarà un progetto nuovo, la Giraffe Electronique, che è composto da un DJ di Arezzo, più un percussionista e un vocalist. Ancora ci sarà l'orchestra che non sa suonare. Che cos'è l'orchestra che non sa suonare? Invitiamo, tra l'altro, tutti, o chiunque voglia, provare a portare uno strumento o a semplicemente venire al parco dell'acqua, perché, sempre il jazzista di cui parlavo prima, Alipio, coordinerà tutte le persone che verranno che non sanno suonare uno strumento cercando di farli suonare insieme diverse composizioni. A finire di serata faranno anche Alipio, con altri due jazzisti, un concerto. Direi che è tutto, mi sembra che il programma sia piuttosto denso, Il nostro rado nel nostro rado è un tascimento, il nostro rado è un'esplendibile.